Musica Benvenuti a questo nuovo episodio di MMA Talks Podcast Ci eravamo spesi la scorsa settimana sulla bontà un po' nascosta dell'ultima card da UFC Chiaramente con un piazzamento un po' sfortunato successivo a UFC 261 Per poter reggere il passo della spettacolarità e dell'eccellenza di performance Che appunto la card numerata dell'Atlantide Fighting Championship ha saputo proporre E per fortuna grazie ai protagonisti di main e comain Non abbiamo fatto brutta figura perché Giri Prociasca e Giga Cicazze Hanno offerto finalizzazioni e performance assolutamente spettacolari Che comunque hanno animato un'ultima card da UFC Generalmente a dire la verità non proprio di grandissimo livello Però tutto sommato con qualche performance degna di nota da commentare in questa puntata Oltre a presentare la prossima card dell'Atlantide Fighting Championship Sempre da UFC Apex Che purtroppo ha perso il suo match di maggior peso Tillascio contro Corey Sandegen Che presenta un main event non ancora ufficiale Diciamo in proiezione Ma che sembra ormai abbastanza certo Quello tra Michelle Watterson e Margarino Riggez E un insieme di vari nomi e match up Che tutto sommato possono anche in questo caso Sorprendere in positivo come l'hanno fatto Appunto main e comain del sabato appena trascorso Due parole anche di anteprima Possiamo spendere anche sul ritorno di Bellator il 7 maggio Anche qui un'altra perdita di lusso in termini di match up Perché doveva esserci la sfida molto molto interessante Tra Anthony Johnson e io e Romero Per l'uscita di scena sorprendente per motivi sanitari Insomma di fallimento di test medici da parte del cubano Nel main event Diana Ciuleta difenderà il titolo Banta Wait contro Sergio Pettis Prima di entrare nel vivo come sempre le presentazioni E da questa parte del microfono vi saluto Stefano E dall'altra Giovanni Benvenuto Giovanni Ciao Stefano salve a tutti Perfetto come detto Giri Prociasca e Giga Cicazze Hanno infiammato una card l'ultima dell'OFC Con KO e TKO In una serata contraddistinta Per la stragrande maggioranza da Decision E partiamo appunto da Prociasca Che nel main event A light heavyweight ha sconfitto Dominic Reyes Per KO con uno spinning back elbow Dopo 4 minuti e 29 secondi nel secondo round La terza finalizzazione per questa modalità Nella storia del UFC Prociasca in questo appunto ha imitato Dong Yun Kim e Riccardo Ramos Prociasca è stato anche il secondo fighter Diciamo di una categoria di peso superiore a middleweight Ad aver vinto per KO Con un attacco in torsione per così dire in spinning Il primo ad esserci riuscito fu Diciamo una sorta di epigone del cieco Johnny Walker che appunto con uno spinning back fist Sconfisse dopo 15 secondi Justin LaDette A UFC Fight Night 144 nel 2019 Prociasca però ci ha abituato Per chi lo ha seguito Soprattutto nella sua parentesi in Rising A finalizzazioni nel corso della sua carriera Tant'è che appunto il KO portato a segno Contro The Devastator Ironia della sorte Visto il soprannome appunto dello sconfitto È stato il 25esimo nella sua carriera Il decimo di fila in questa fase recente Denisa Il soprannome del fighter proveniente da Repubblica Ceca Ha un percentuale di knockout in carriera Pari all'89% Ed è stato anche il fighter Anticipiamo un attimo la vetrina sui bonus È stato il primo fighter nel giro di un anno A ottenere più di un bonus dopo l'evento Prendi appunto premiato sia con i bonus di Fight of the Night Sia con il bonus di performance of the night Un qualcosa che non avveniva appunto dal 2020 L'ultimo riuscirci fu Justinian Gaeth IFC 249 contro Tony Ferguson KO spettacolare per l'appunto Questa gomitata di sinistro girata Che non ha rappresentato però Un lampo isolato nella performance eccezionale di Denisa Anzi è stato il punto esclamativo All'interno di una performance di altissimo livello Chiaramente per lo più nell'ambito dello striking Dove si è visto per l'appunto Il meglio di quanto Prociasca in piedi possa offrire E abbia offerto nel corso della sua carriera Mostrandosi sempre molto aggressivo Con uno stile molto particolare E di difficile lettura Anche per un fighter che comunque come Reyes Ha avuto a che fare nella sua ascesa E in particolare nella sua famosa sconfitta onorevole Contro John Jones Con diversi stili, diversi fighter Anche particolarmente insidiosi In piedi appunto come Prociasca E a dire la verità Reyes per buona parte dell'incontro Comunque ha risposto il più possibile Lo striking al footwork attipico Comunque di non facile lettura di Prociasca Andando a segno regolarmente In particolare con diversi kick Comunque middle kick Soprattutto nelle fasi iniziali Poi mettendo a segno anche dei buoni colpi al volto Alcuni dei quali hanno anche visibilmente estordito Il proprio avversario Insomma diciamo che non si distingue Per la guardia particolarmente alta In determinate fasi insomma di scambi Ne era avvicinato Purtroppo per lui però Già nel primo round si è notato questa tendenza E in particolare poi chiaramente Nel secondo Quando si è arrivati poi finalmente A pochi secondi insomma Dalla conclusione della seconda ripresa Finalizzazione Si è visto chiaramente che Reyes Non appena Prociasca Riusciva a prendere ritmo Con il proprio striking E mettere a segno diverse combinazioni Si vedeva insomma Vedeva visibilmente Reyes In arretramento verso la parete In netta difficoltà Con un visibile affanno Sono dovuto anche al peso dei colpi Portati a segno Oltre che dalla rapidità dei colpi Portati a segno E dal volume di colpi Portati a segno Da il fighter proveniente Dalla Repubblica cieca Una combinazione di striking Che chiaramente si è fatta sentire alla lunga E che è stata poi concretizzata All'ultimo Da appunto quella gomitata girata Che ha chiuso definitivamente Ogni speranza di vittoria per Reyes Che pure aveva tentato Di ottenere la vittoria Nel corso della contesa Oltre che con lo striking Anche con un tentativo di guirto in ciocco Dalla quale però Comunque Prociasca ha avuto il merito Di uscirne E per Reyes Si tratta insomma Di una sconfitta Non necessariamente pesante Nella performance Ma pesante Da punto di vista statistico Visto che Aveva iniziato la carriera Con 12 vittorie Di fila Che avevano portato Per l'appunto All'occasione titolata Contro Jon Jones Arrivò Quella sconfitta Contro Jon Jones Particolarmente contestata Tant'è che Insomma Alcuni Ancora oggi Affermano che Reyes in realtà Avrebbe dovuto essere premiato Con la vittoria Contro L'ex campione Di categoria Successivamente però Reyes Non ha avuto modo di riscattarsi Anzi Fu nettamente sconfitto Dall'attuale Campione Categoria a light heavyweight Ian Blakovic E ora Per l'appunto Un'alta Pesante Brutta Almeno nella sostanza Sconfitta Per knockout Giovanni Light heavyweight Negli ultimi anni Ci ha abituato In un certo senso A Ascese Prorompenti Di fighter Che in qualche modo Riescono a far valere Caratteristiche fisiche Caratteristiche Atletiche O Caratteristiche Stilistiche Diciamo Diverse dal solito Per ottenere Diverse vittorie In K.O. T.K.O Pensiamo In tempi recenti A Özdemir A Johnny Walker All'ultimo Anthony Smith Diciamo Quello che arrivò Appunto Anche lui A giocarsi Una chance Titolata Contro John Jones E in un mondo Nell'altro Molti di questi Fighter O Si sono Bloccati Contro il campione Di categoria Voi appunto Il lungamente citato John Jones Oppure Nel caso di Özdemir Daniel Cormier Oppure Si sono Fermati Ben prima Pensiamo Appunto A Johnny Walker Ti chiedo Alla luce Di quanto Offerto In questa Performance E nel suo Breve percorso UFC E visto che tu Anche lo hai Avuto modo Di seguirlo In Rising Nel complesso Della sua carriera Ad alti livelli Nelle Mixed Martial Arts In cosa Procesca Può avere Un destino Diverso Nel contesto Di Light Heavyweight Cioè Credi che tutto Questo Possa bastare Per poter Effettivamente Affermarsi Prima o poi Come campioni Di categoria Oppure Temi Che alla lunga Alcuni limiti Che sono stati esposti Anche dallo stesso Reyes In altre fasi Del combattimento Possano Essere Pagati cari Chiaramente In un'ottica Già Di match Titolato Al quale Chiaramente Con una performance Del genere Sembra mai Proiettarsi Il nostro Procesca Ma guarda Stefano Credo di non essere Massimamente Attendibile Perché dopo Questo match Sono diventato Praticamente Un fan Come dici tu Lo seguivamo Già Da Rising Sapevamo Che aveva Le stimmate Del fenomeno Che comunque Aveva molto Da offrire Però si era Confrontato Fino adesso Con un livello Che non era Quello Per una certa Noia Negli ultimi Match Forse la mancanza Di stimoli Forse il desiderio Anche di Non sprecarsi Troppo Le sue vittorie Di misura Non avevano Convinto Molto gli Osservatori Adesso invece La divisione Sta vivendo Una nuova Giovinezza E Procesca Secondo me È il capostipite Della nuova Leva Della nuova Generazione Ed è pronto A raccogliere Il testimone Di Jones E a laurearsi Secondo me Anche campione A breve Perché Se come hai detto Tu Nel suo gioco Io non vedo Chi altri Possa fare Meglio di lui Perché Se consideriamo Che Jan Blakovic Comunque va Per i 37 anni Che Reyes È stato Appena dominato Osdemir È stato Battuto Io non vedo Chi altri Teseira Probabilmente Andrà Come prossimo Sfidante Titolato Ma anche lui È ben oltre I 40 anni Quindi Non so Se Procesca Otterrà Il prossimo Match Titolato Dopo Glover Teseira Però Quello che so È che in futuro Si propone Come una Grandissima Stella Che punterà Sicuramente Al titolo Insieme Ad altri Astri Nascenti O comunque Giovani Conferme Come anche Alexander Rakic Un altro Che si può Benissimo Accostare A Procesca Sono dei Fighter Giovani In via Di evoluzione Che devono Sistemare Quelle poche Falle Che hanno Nel loro Gioco Ma che Si presentano Come dei fenomeni Veri Fortissimi Completi E capaci Di imbastire Gameplan Abbastanza Illegibili Per i loro Avversari Perché Dotati Di un arsenale Talmente ampio E di un'intelligenza Tattica Avanzata Già da Veterani Che hanno Scalato Comunque Le gerarchie Molto rapidamente Adesso Si presentano Come astri Nascenti Procesca Sopra Tutti Subito Sotto Di lui Credo Ci sia Appunto Aleksandar Rakic Ma Il futuro Della Divisione Dei massimi Leggeri Se Dovesse Continuare Così A rinfoltirsi Di Fighter Di questo Calibro Non può Che Migliorare Ecco Da un punto Di vista Stilistico Qual è La cosa Che Ti piace Di più O Che anche Per certi Ti ha Sorpreso In relazione Alla Performance Contro Reyes Di Procesca Qual è Chiaramente Il difetto Proiettandola A quella Che citavi Sarà Di fatto La prossima Sfida Titolata Quella Appunto Di settembre UFC 266 Tra Jan Blakovic E Glover Teixeira Quale Matchup Tra i due Eventuali Insomma Immaginando Che Procesca Possa Effettivamente Andare Contro Vincitore Di questo Incontro Appunto Blakovic E Teixeira Quale Matchup È Il peggiore Per il cieco Quello Contro Blakovic O Quello Contro Teixeira Diciamo Ma forse Quello Contro Teixeira Perché Il brasiliano È un fighter Più arcigno Di tutti e due Gli altri suoi contendenti Quindi Blakovic Che è il campione E Procesca In fase Di ground game Ecco Lì a terra C'è proprio Un dislivello Che secondo me È abbastanza evidente Fra Teixeira E i suoi avversari Nello stand up Teixeira È Il più scolastico Il più Tecnico Forse Ma sicuramente Non il più forte Il più convincente Perché In termini di potenza Blakovic Credo sia Il più consistente In termini di Estemporaneità Di creatività Procesca è sicuramente Il più imprevedibile Quello è anche Il suo punto di forza Il fatto che Che sia Estremamente imprevedibile Che muova Tantissimo le braccia E che al di là Di quello che si pensi Che si veda Perché lo si vede Sempre muovere le braccia Non spreca un movimento In realtà È sempre pronto A schivare Con i movimenti Di busto E di testa Pronto a rientrare Con tutte e due Le braccia Con il low kick Come dicevi prima Giustamente tu Se devo trovargli Un difetto È il fatto Che tenga Basse le braccia Abbinate a volte Abbinato a volte A un mancato movimento In anticipo Quindi Un fighter Che tiene le braccia Abbasse In quel modo Deve comunque Leggere in anticipo Le intenzioni Degli avversari Lui invece Pare a suo agio A parare i colpi Col muso Tante volte Non sembra Quasi mai Accusare Veramente i colpi Ne ha accusato Forse uno Ha tentato Poi un takedown Si sono rimessi in piedi Due però Lui si è ripreso Praticamente subito Però Davvero Una capacità Anche da incassatore Notevole Ha solo 28 anni Già 30 match Parliamo qui Di un'ora Praticamente Alla Musasi Mi verrebbe da dire Solo che Pro Ciasca Forse addirittura È più vicino Di quanto non lo sia Mai stato Musasi Alla chance titolata Sì 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 Assolutamente Per come si sta profilando La light heavyweight division Insomma In cambiamento generazionale O comunque Con uno scossone diverso Già un movimento diverso Dopo l'uscita Di Un po' di tempo fa Di Daniel Cormier E ormai anche Da un po' di tempo A questa parte Di John Jones Chiaramente Pro Ciasca Sta avendo Un percorso Un po' privilegiato Dove non mancano Però anche altri nomi L'hai citato anche tu Rakic Che però Per performance Recenti Offerte È sembrato Molto Molto meno Convincente O perlomeno Molto Molto meno Spettacolare Rispetto a questi standard Che Pro Ciasca Ha imposto E in particolare Appunto Già Questo ultimo Sabato Appunto Due parole Anche sullo sconfitto Un Dominic Reyes Che è incappato In quella che è un po' La sorta di maledizione Di John Jones Nel senso che Sembra effettivamente Incappato In un destino Che Con modalità Chiaramente diverse Ha colpito Anche in passato Gustafson È già citato Smith Tiago Santos Lo stesso Smith Quello di appunto Finire in un momento Difficile Di carriera Vuoi per Sconfitte di fila Vuoi per Gravi infortuni O per la combinazione Di entrambe le cose C'è da dire che In realtà Per l'appunto Reyes Anche in questa sconfitta Nella quale Della quale si ricorderà Alla lunga Chiaramente solo Il KO Molto probabilmente Per come vanno le cose Nella memoria collettiva Dell'MMA Però nella performance Tutto sommato The Devastator Non si è comportato Neanche così Tanto male Però chiaramente Tre sconfitte di fila Ti pongono In una prospettiva Di carriera Comunque Non molto molto facile Tu hai l'impressione Che Reyes Che ha chiaramente Un problema Probabilmente Con la tenuta Dei colpi Visto che Comunque è caduto Nelle ultime due Sconfitte per KO Credi che Questo Possa pregiudicare In un futuro Detto che Parliamo di un fighter Che non è poi Così anziano Anzi Ha 31 anni Quindi volendo Il tempo sarebbe Dalla sua parte Però credi che Abbiamo a che fare Con un fighter Che abbia già Dei grossi limiti In termini di tenuta Tali da impedirgli Nel giro Di probabilmente Un paio di anni Se non di più Un'ascesa Perlomeno Alla Anthony Smith Per capirci Per riuscire almeno A rendersi competitivo Se non necessariamente Da contender Per il titolo Perlomeno Per un livello Leggermente più basso Credi che possa essere Nelle possibilità Non dico Di talento Ma anche Di caratteristiche fisiche E di tenuta Dei colpi Per Reyes Oppure Temi che Un certo livello Di competizione Perlomeno Quello in cui Diciamo Questo altissimo Livello di competizione Nel quale Un singolo errore Viene pagato Veramente A caro prezzo Credi che Reyes A questo livello Possa essere Un po' Diciamo Tirato fuori A questo punto Dopo questa sconfitta Ma secondo me Ha solo fatto Grandissimo affidamento Sulle proprie capacità Di aggressione E Da incassatore Perché No io credo che Hai fatto bene A sottolineare La carta del talento Perché Reyes Secondo me Ne ha da vendere Solo che Ha incontrato Un fighter Che è più fresco Paradossalmente Di lui Probabilmente Anche più forte In termini poi In senso lato Diciamo Reyes Può competere Nei primi 5 Senza troppi problemi Nei massimi leggeri Senza troppi problemi Significa che Lui è arrivato a John Jones Con una scalata Micidiale Poi secondo me Si è un po' adagiato Avendo quasi pareggiato Praticamente Grosso modo Con John Jones Credeva di poter gestire Alla stessa maniera I suoi avversari E invece non è così Perché Ogni fighter Poi è un rebus Differente No? E come abbiamo visto Poi la caduta Può essere anche Dietro l'angolo Blakovic ha caratteristiche Diverse da John Così come Prociasca Sono tutti un po' Differenti fra loro Per caratteristiche Sono molto Differenti Io credo che Reyes Se raccoglie un attimo I pensieri E comincia a lavorare Comunque sulle schivate Magari un po' Sul controllo Delle distanze Lui abbia le capacità Un middle kick Davvero mortifero Per Rimanere Ad altissimi livelli Diciamo pure Nel contesto titolato Però sicuramente Le ultime due prestazioni Non dicono questo Dicono che Il fighter È in In caduta libera E che Questa vittoria Comunque Lui la voleva Secondo me La voleva ardentemente La voleva per finalizzazione Tant'è che anche Quando stava subendo Ha provato a scambiare Ha provato a riprendere Le redini Dell'incontro Finendo inevitabilmente Per essere schiacciato Perché Dal punto di vista Degli assalti frontali Prociasca sembrava Molto ma molto Più Consistente Secondo me Reyes può rimanere In questo giro Però deve adottare Uno stile di combattimento Più morigerato E deve capire meglio I momenti dell'incontro Secondo me Perché Può rimanere qui Ma Deve acquisire esperienza Ecco Sì Chiaramente Queste sono Lezioni durissime Dalle quali Non è impossibile Imparare E non è affatto impossibile Riuscire anche a Rinascere come fighter Riuscirne meglio magari Eh sì 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 Chiaramente Questo è un bivio Per la sua carriera Probabilmente Dovrà prendersi anche Magari un po' di tempo Di pausa Anche per Diciamo il mento Non è che Rinsavisca Diciamo col tempo Però Ma da lui è il naso Secondo me Più che il mento Lui non Non ha problemi Io credo Di mandibola Perché ha preso Delle savarnate Incredibili Poi Un'altra cosa Che mi ha fatto Venire in mente Così parlando Ti rendi conto Di che sport Parliamo Uno sport Nel quale tu Fai due sconfitte Consecutive Pur avendo avuto Una scalata Spaventosa E si parla E si parla Di bivi Di carriera Che poi Effettivamente L'università È vero Perché così Le tre sconfitte Di fila Ti fanno rischiare Il posto E secondo me Anche a tratti Ingiusto Come trattamento Però È anche La conseguenza Naturale Dello stare Nell'elite Fondamentalmente Quindi Sì Per ritornare Per Recucire il discorso Che stavamo facendo Più che Mandibola Mi sembra proprio Un problema di naso Quando Gliel'ha rotto Praticamente Blakovic Sembra non aver più Recuperato Appena subisce Due colpi secchi Sul naso Gli si rischiaccia L'ultima gomitata Poi è stata Qualcosa di Spaventoso Plastico Proprio Gesto da Almanacco sportivo L'ho descritto E credo che Psicologicamente Ancora più che Fisicamente Queste sconfitte Facciano male Ricordi Rory Mcdonald Dopo gli incontri Con Robby Lawler Non è mai più Stato lo stesso Fondamentalmente Quindi Se la risposta Psicologica Di Reyes Sarà diversa E saprà Magari Imparare Gestire Da queste sconfitte Il proseguo Della sua carriera Allora può Riprendersi Può ritornare Anche a competere Secondo me Per il contesto Titolato In caso contrario Si prevede Un calo drastico Spero per lui Di no Perché è un fighter Molto interessante Chiaro L'esempio Di Rory Mcdonald È veramente Plastico Di quello Che può essere Lo scenario Peggiore Per lo meno In termini di Competitività Che si prospetta Di frontare A Reyes Sarà interessante Insomma in futuro Vedere come si evolverà La sua carriera Come chiaramente Sarà molto interessante Vedere I futuri sviluppi Della carriera Invece di Ciri Prociasca Altro grande protagonista Sempre per colpi Spettacolari È stato Nell'evento Nel common event È stato Giga Cicazze Il georgiano Vittorioso Nella sfida A featherweight Contro Cap Swanson Per fondamentalmente Liver kick Anche se La finalizzazione Ufficiale È TKO Per body kick E pugni A seguire Dopo un minuto E tre secondi Nelle primo round Da un punto di vista Di analisi Dell'incontro in sé Non è che ci sia poi Tantissimo Da dire Nel senso che Qualche scambio Interlocutore Tra i due E poi Un letale Calcio al fegato Di sinistro Una specialità Insomma per Cicazze Affinata Nella sua carriera Nella kickboxing Che ha riportato Insomma a Molti final Di vecchia data Della MMA Ricordi Di Bas Rutten Insomma sicuramente Molto molto orgoglioso Di questa finalizzazione Che ha coinvolto Appunto Questo organo Del corpo Per Cicazze Questa è stata La sesta vittoria Consecutiva Che al momento Lo pone Alla pari Di Zabit Magomed Sharipov Per terza Più lunga Strescia Di successi Nella Federal White Division Al momento Alle spalle Solo di quelle Di Ardon Allen Che si è fermato A 8 E Volkanovski Che si è fermato Invece a 7 Cicazze Ha scritto Con questa vittoria In relazione Allo sconfitto Cap Swanson Una piccola pagina Di storia A suo modo Perché è stata La prima persona A infliggere una sconfitta Per KO Appunto A Swanson Da il 7 giugno Del 2009 Ben 12 anni E vendita in conti Nella carriera di Swanson Che ciò non accadeva Jose Aldo Era stato Esatto Bravissimo Ma esatto proprio Jose Aldo Ai tempi Quella ginocchiata Spaziale In WC In WC Esattamente È stato l'ultimo A poter vantare Di essere riuscito A sconfiggere Uno dei fighter Sicuramente Pi' duri E tenaci Che si siano visti Sicuramente Nel contesto Di queste categorie Di peso Di featherweight E in generale Forse nel mondo Delle MMA E chiaramente Insomma Questo pone Probabilmente Se non necessariamente L'ultimo capitolo Però uno degli ultimi Capitoli della carriera Di Swanson Per quanto riguarda Invece il vincente Giovanni Invece Questa di Cicazze È forse La performance Che più di tutte Volendo anche Data anche La caratura Dell'avversario Il peso Del nome Dell'avversario Che ha sconfitto Questa è veramente La vittoria La performance Che toglie Qualsiasi tipo Di dubbio Perlomeno Per quanto riguarda Il contesto Dello striking Sul valore assoluto Di Cicazze In questa categoria Non sarà Anche qui Forse un po' presto Per lanciarsi In prospettive Su competitività A livello Titolato Però Sicuramente Non c'è un fighter A featherweight Che affronterebbe A cuore leggero In piedi Cicazze A questo punto No Senz'altro Stefano Ma Io credo Poi che Lo si sapesse Di Giga Che è un fighter Uno striker Davvero Straordinario Fondamentalmente Se non ero Anche Una carriera Prodivessa In glory Cicazze È un fighter Uno striker Straordinario Lo conosciamo Soprattutto per questo Poi con un KV Del genere Voglio dire È un calcio Al fegato Davvero mortifero Straordinario Col calcio Al fegato In genere Ci si aspetta L'effetto Del calcio Dopo qualche istante Non immediato Lui invece Appena lo tocca Suonso Cade immediatamente In ginocchio Effetto paralizzante Immediato È una sensazione Davvero pazzesca Quella del colpo Al fegato E chi l'ha provata Lo sa bene Perché è davvero Un effetto Totalmente paralizzante Ti fa Chiudere A riccio Totalmente E quello era L'effetto Che effettivamente Ha avuto anche Cab Swanson Pur essendo Un fighter Delitto Non ha potuto Evitare Quel tipo Di danno Se anche Sì effettivamente Come hai detto tu Il TKO È dato per Body kick And punches Il calcio Al fegato Credo che sia Come dire Definitivo In questa questione Anche senza Il ground and pound L'arbitro avrebbe potuto Decretare tranquillamente Il TKO Guarda Cicazze in questo momento Si presenta davvero Come la Prossima grande sorpresa Della divisione Dei pesi Piuma Non so adesso Perché Swanson Era in ranking O non c'era più Giaster Ti confesso che Non lo so Però in ottica futura Prendendo spunto In parte Dalle chiamate Dello stesso Cicazze Che ha citato I nomi di Max Holloway E Calvin Cattar Holloway Mi sembra Una prospettiva Ancora un po' Troppo elevata Pertomeno per il suo livello Cattar potrebbe essere Interessante Ma sappiamo Insomma che Dopo la netta Lezione subita Appunto per mano Dello stesso Holloway Cattar Non sembra essere pronto Nel breve e medio termine A un eventuale incontro Insomma sta patendo Ancora certe conseguenze Del duro match Che ha avuto Appunto contro Blessed Tra le prospettive Che sono state avanzate Insomma dai siti di settore Due nomi che sono emersi In particolare Sono stati quelli Di Josh Emmett E dello stesso Arnon Allen Il che sarebbe Non dico quasi Un title eliminator Ma una sorta di semifinale Diciamo Tra potenziali contender Quali tra i due Match up Eventualmente Insomma Tra un Emmett E un Allen O se ti viene in mente Un altro nome Ti potrebbe interessare Per Cicazze Guarda intanto lui Ho appena letto E ha il numero 10 Ha scalato 4 posizioni Significa che era 14esimo Prima di questo match Ed è diventato numero 10 Mentre Carb Swanson Non è in classifica Però credo sia uscito adesso Comunque Non prima Perché per guadagnare 4 posizioni Immagino che abbia battuto Un contender comunque Adesso è numero 10 Quindi costeggia praticamente Nel vertice basso La top 10 Davanti a lui Fra i nomi Guarda sarebbero Tutte quelle che hai citato Delle sfide molto interessanti Però io Così a primo impatto A prima vista Avevo pensato a De Nige Invece Che potrebbe essere Una bella prova Per lui E comunque Gli farebbe scalare Altre due posizioni Allen è settimo Quindi combatterebbe Contro il settimo Eventualmente Emmett è sesto Quindi saltiamo totalmente La parte bassa Diciamo Della classifica Con una vittoria E poi Perché poi Vincendo contro uno di questi Eventualmente Chiunque dei fighter Vincente Che fosse I cicatze O il suo futuro avversario Potrebbe davvero Cercare Tentare Una title eliminator In quel caso Sì A un match di distanza Diciamo Tutti quelli che hai citato Sono interessanti E aggiungerei De Nige Come fascino Del match Sì Diciamo che De Nige Ha un match Già ufficiale Contro Korean Zombie E quindi Diciamo È stato escluso Soprattutto per quello Però Eventualmente Non sapevo Ma magari eventualmente Non sapevo Se fosse pronto Diciamo Si sa bene Che può esserci sempre Un imprevisto Dietro l'angolo Sì Poi peraltro Rodriguez Ad esempio Ha tanto che non combatte Io Rodriguez Mentre Mago Mediciaro A quanto pare Si è ritirato Mi è sembrato di capire questo Sì Diciamo che Rodriguez e Zabit Sono Momenti un po' Strani Della loro carriera Uno è squalificato L'altro Quando si sentono Queste cose Di voci Di ritiri Bisogna sempre prenderle Un po' Con le pinze Chiaramente Ma non è più Il ranking Cioè Si stavano inseguendo Per combattere Lui con Il Pantera Fondamentalmente In una pausa Di carriera Questo possiamo Possiamo definirla Insomma Adesso non so Se si possa Definire chiaramente Come ritiro meno Però in un momento Di carriera Di Stasi Dovuto anche Credo anche Non necessariamente Alla sua volontà Ma alle difficoltà Per un fighter Fuori dagli Stati Uniti Di poter essere attivo In questo periodo Prolungato Di difficoltà Nel viaggiare Per la pandemia Sono due nomi In sospesa Effettivamente Quindi è un po' Una categoria di peso Che ha Questi nomi E box Dell'assurdo Però questa cosa Perché Zabit Era lì lì Per combattere Per il titolo Purtroppo Le circostanze varie Che hanno creato Che hanno portato Dirette conseguenze Della pandemia Hanno inciso Anche da questo Punto di vista E altri Imprevisti Per quanto riguarda Ieri Rodriguez Che è stato Scodificato Da Usada Insomma Hanno portato Un po' Di scompiglio In queste Girarchie Della Faderweight Division E un po' Di scompiglio In altra maniera Per certi aspetti Lo sta portando Anche lo stesso Cicazze Però chiaramente Con l'azione Se vogliamo dire Con i propri fatti Con i propri calci In caso specifico Beh sì Ora magari Max Holloway Effettivamente Subito No è un po' Troppo Assolutamente Non mi dispiacerebbe Non mi dispiacerebbe Nemmeno questo Come matchup Anche se Io credo che Holloway Partirebbe Con me Ampiamente favorito Però Voglio dire Mi sembra anche Un passo un pochino Forse una concessione Troppo alta Ecco Dieci posizioni Assolutamente L'altra sfida A Light Heavyweight Che poteva promettere Nelle scintille In piedi Era quella Tra John Kutelava E Dustin Jacobi Protagonisti Già Soprattutto Per colpa Se dobbiamo mettere In questi termini Di Kutelava Di un Scambio rivicinato In occasione Del post Weigh-in Insomma Del face-off Nella gabbia Il loro scontro diretto Legittimo Ha restituito Un verdetto Di pareggio Per split 28-29 29-28 28-28 Un verdetto Che volendo Possiamo anche valutare Come giusto Nell'ottica in cui Sì Assolutamente Secondo me Nella resa finale Solo un giudice Per me Ha azzeccato i cartellini Cioè almeno Per come l'avevo visto io E quello che ha dato 28-28 Credo che ti riferissi Anche al fatto Che solo un giudice Ha segnato Il 10-8 Nel primo round A Kutelava Un round Che effettivamente Giustamente Doveva essere valutato Il 10-8 Per l'assoluto Dominio Di Kutelava Da un punto di vista Atletico E da un punto di vista Tecnico Soprattutto Importato Canalizzato Se vogliamo mettere Questi termini Nell'ambito Del grappling A bordo gabbia Kutelava Per l'appunto Moldavo Ha tenuto A bada Stabilmente Giacobbi Atterrandolo Più volte E soprattutto Cosa più importante Ha concretizzato Questa posizione Di vantaggio Lavorando Pesantemente Di grand and pound In particolare Con delle gomitate Al volto Veramente Molto Molto pesanti Che si sono fatte Chiaramente sentire Sotto diversi punti di vista Sul americano E che hanno Stabilito In quella prima parte Di incontro Una netta superiorità Di Kutelava Superiorità Che però Nei round Successivi Diciamo Si è attenuata Di molto E che anzi Se spostate Di equilibri In favore Di Giacobbi Ha restabilito Un pochino Di equilibri Esibendo Una maggiore Tenuta Da un punto Di vista Atletico Perché Kutelava Ha concesso Qualcosa In termini Di cardio Forse Di energie E soprattutto Anche in termini Di equilibrio E di compostezza Nello striking Si è dimostrato Un pochino Più Diciamo Superiore Non necessariamente Nettamente superiore Però in parte Superiore Lavorando Stabilmente Con Sulla base Di un solido Jeb sinistro E combinando Il tutto Con combinazioni E un buon Utilizzo di calci Il che ha portato Nel complesso Appunto A un risultato Di pareggio Che appunto Mi sembra di capire Ti trova Concorde Da un punto Di vista Statistico Appunto Kutelava È andato a segno Con 8 Takedown Nel corso Del primo round Appunto Conto Giacobbi Il che pareggia Il numero Di takedown Che Jimmy Crutto Riuscì a realizzare Su Mikal Oletzichuk A UFC Fight Night 168 Nel febbraio Del 2020 Appunto Pareggiando un record Di divisione Nella storia Nella storia Della divisione In un singolo round 8 tentativi È andata a segno Su 11 Appunto Nel contesto Del primo round Nei successivi Però Appunto Nel Praticamente Nell'ultimo round Solo un tentativo A segno Su 8 Quindi questo Ha dato segno Di come Kutelava Non abbia Non sia stato Particamente Passimonioso In termini Di gestione Delle energie E questo Insomma Se non l'ha pagato Con la sconfitta Però l'ha pagato Con un pareggio Pareggio Giovanni Giusto Pareggio Che in un certo senso È quello Tra un Kutelava Più brillante Nelle fasi Di grappling Però Meno abile Nel gestire Le proprie energie Così come Un Giacobi Diciamo Dalla difesa Dei takedown Sicuramente Da rivedere Ma che Da un punto di vista Di gestione Del cardio E di gestione Delle fasi In piedi È sembrato Superiore Al suo diretto avversario Insomma Pareggio Su tutta la linea Per certi aspetti Ma pareggio Anche perché L'arbitro Non ha detratto Un punto A Giacobi Nel primo round Che si è appeso Alla gabbia 15 volte Cioè Lì Io un attimino Guarda Io in genere Mi sta abbastanza Antipatico Kutelava Quindi Diciamo Che sono sempre contento Quando è che Che prende Delle savarnate Però C'è da dire Che vedendo Quell'atteggiamento Di Giacobi Che si appendeva Alla gabbia In continuazione L'arbitro Che non Non ha detratto Un punto Sinceramente Ho un attimino Ecco Ho compatito Un attimino Kutelaba Perché Lì poteva anche Cambiare il verdetto finale Se l'arbitro Ti toglie un punto Quello è 10-7 Quei round E tu non lo recuperi più Nemmeno vincendo Gli altri due Quindi Da un certo punto di vista In termini di sviluppo Del match in sé Sì Il pareggio È assolutamente giusto Perché è un round 10-8 Per Kutelaba E poi sono 2-10-9 Secondo me Per Giacobi Però Al primo round Secondo me Giacobi Meritava La detrazione Di un punto Eh sì Ha inciso Potrebbe aver inciso Insomma Sull'esito Dell'incontro Però insomma Bene o male Appunto Valutandola Ma nel suo complesso Un po' alla pride Effettivamente Il pareggio Nel suo complesso Appare essere Comunque il risultato Sì Più corretto Che rende merito Effettivamente A pareggio e difetti Di entrambi i fighter Probabilmente Non contendere In prospettiva Però fighter Che nel mezzo Possono essere Particolarmente Insidiosi Chi ha proseguito Il suo percorso Positivo In questa fase Di carriera Ottenendo Un'altra vittoria Se non necessariamente Troppo spettacolare Però sicuramente sodio È stato Sean Strickland Che a middleweight Ha sconfitto Christoph Jotko Per decisione Unanime 30-27 30-27 29-28 Strickland Si conferma Essere In questo Rinascita di carriera Dopo Abbiamo ricordato Insomma Un grave incidente Che gli ha tolto Degli anni di carriera Fondamentalmente E un ritorno In categoria Middleweight Pieno di incognite Almeno all'inizio Ha proseguito Insomma Su questo percorso positivo Con una terza vittoria Di fila In carriera In questa fase di carriera Puntando stabilmente Su uno striking Volendo anche Abbastanza elementare Insomma La ricerca costante Verticale Di 1-2 Senza Disnegare Insomma L'aggressione continua Correndo Qualche rischio Anche di colpo In counter Che effettivamente Jotko In particolare Nel secondo e terzo Lanno Ha riuscito a piazzare Ma Strategia Che all'allunga Comunque Ha la tua ragione A Strickland Tu Io in sede di anteprima Non eri particolarmente Convinto Su Strickland Comunque avevi Qualche riserva Questo match Ti ha aiutato A sciogliere Alcune di queste riserve Sì Sì No 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 Mi ha aiutato Come Si è evoluto Indiscutibilmente Ha un controllo Delle distanze maggiori Riesce a muoversi In un fazzoletto Praticamente a terra E a schivare Rientrare Molto bene Ha un footwork Atipico Perché è molto brevilineo Però Tiene la distanza Cioè secondo me Il suo punto forte È proprio Riuscire a combattere Dalla distanza Che preferisce E quindi Riesce ad andare Spesso a segno Perché è dotato Di ottimo timing A me lo io ti ripeto Piace Mi piaceva anche Nei pesi welter Qui avevo delle riserve Proprio per Come si sarebbe Comportato In base al peso Ma sembra addirittura Forse E trovarsi meglio qui Che a welter Praticamente È in totale controllo Del match In tutti i match Che ha fatto Non subisce Particolari pressioni Non ha particolari Momenti di smarrimento Anzi è sempre In controllo Ha comunque Uno striking Che è molto Di gestione È molto Come dire Conservativo Perché è dotato Anche di buona potenza Lui quindi Si vede che ha sempre Comunque poi La meglio negli scambi Sia per timing Che per Per intensità E quindi Si può permettere Di fare questi match Di fra virgolette Gestione Perché non ha fatto Altro che gestire Contro Contro Jotko Non ha mai rischiato Né in attacco Né in difesa E comunque È sempre stato In avanzamento Ha avuto L'inerzia Dell'incontro Sempre dal suo lato Senza mai Perderla È veramente Straordinario Sì Assolutamente Prova Solida Quella di Sean Strickland Nell'ultimo evento UFC Come solida È stata anche La prova Di Merab Valishvili Contro Cody Steman Bantamweight Vittoria per Decisione unanime Del Giorgiano Per 30-27 29-28 29-28 Chiaramente Avendo a che fare Con due fighter Che puntano Buona parte Del loro Gameplan Insomma Classico Gameplan Sul wrestling Ci si poteva aspettare Una sfida Importata su altre caratteristiche Soprattutto su altri aspetti Chiaramente Quello dello striking E anche qui Valishvili Chiamato un po' A una sorta di prova del 9 Sotto questo aspetto Ha superato A pieni voti Comunque Questo test Risultando Essere insomma Il fighter Tendenzialmente Più efficace Nelle fasi Di scambio in piedi Contro comunque Uno Steyman Che si è mantenuto Su standard Competitivi Comunque attendibili Per la categoria Bantamweight Ai quali Ci ha abituato Per Valishvili Questa ottenuta Contro Steyman È la quinta vittoria Di fila La seconda striscia Di successi Più lunga A Bantamweight Dopo Solo quella Del suo compagno Di team Aljamain Sterling Fermo A 6 successi In realtà Valishvili Sarebbe In carriera Su 6 vittorie Di fila Ma una di queste È stata tenuta In catchweight Quindi formalmente A Bantamweight Sono solo 5 Diciamo Tra virgolette Solo Vittorie di fila Nel contesto appunto Di questa categoria Di peso E Valishvili Che sappiamo Che sa imporre Un wrestling Per certi aspetti Di assoluto livello Per Bantamweight Se sa Trojan Dovesse tornare Campione A seguito Del papabile Rimatch Con Aljamain Sterling In quel senso Allora Il Georgiano Potrebbe puntare A fare il colpaccio In questo momento Sicuramente Può continuare A scalare La top 10 A Stamann Era anche Abbastanza in alto Quindi Il suo prossimo match Potrebbe essere Lì ai margini Voglio dire Ci sono i contendenti C'è Munoz C'è Dominic Cruz Ci sono i contendenti Da affrontare In questa divisione Tutto dipenderà Comunque Da come si evolverà Il contesto Titolato Secondo me Sì Dominic Cruz È proprio il nome Che Valishvili Ha chiesto Dopo l'incontro Petro Munoz È quello Che viene indicato Nei soliti Commenti Insomma Esercizi Di matchmaking Post evento Le li ha dette I lavori E effettivamente Tra questi due nomi Può uscire fuori Quello che può essere Il prossimo capitolo Importante Nella carriera Del Georgiano Che ha continuato A vincere E possiamo dire Anche a convincere Alla luce Di quanto è fatto Lo scorso sabato Breve panoramica Su Predims Caratterizzati Da tantissime decisioni 5 su 6 incontri Di questa porzione Di card Diciamo Le decision Che meritano Di essere recuperate In termini appunto Di spettacolarità E di divertimento Sicuramente Piccano L'incontro iniziale Dell'evento Quello tra Felipe Colares E Luke Sanders A Fedderweight Con la vittoria Del primo per 29-28 29-28 29-28 Incontro A tanti selvaggio Insomma Chiaramente Importato più Sullo striking Con Sanders Vicino alla finalizzazione Nel primo round Colares vicino Alla finalizzazione Nel secondo round E un terzo round Un pochino più equilibrato Quindi diciamo Un mix Di equilibrio Che di fatto Ha contribuito A un incontro D'apertura Particolarmente Interessante Da vedere Così come interessante Da vedere E molto controverso Per il verdetto Che ha fatto Abbastanza discutere È stato Il match Sempre a Fedderweight Tra TJ Brown E Kai Kamaka Terzo Vittoria del primo Molto contestata Per Split 27-30 29-28 29-28 Giusto per citarla Visto che è nota Soprattutto nel mondo Del pugilato Per essere Per un cartellino Molto molto contestato In occasione Di un match Di uno dei match Tra Canelo Alvarez E Gennari Golovkin Adeline Bird È stata presa Invece questa volta Esempio positivo Da molti fan Perché è stata L'unica di giudice Ad aver assegnato La vittoria A Kai Kamaka Terzo Indicato Stando appunto Ai dati Del sempre utile E made decision Sia dai media Che dai fan Come il vero Vincitore Di questa sfida Comunque in realtà Un match Che nel suo complesso È stato comunque Abbastanza equilibrato Effettivamente Kai Kamaka Sembra aver messo Nel corso dell'incontro I colpi più Interessanti E più significativi Nel corso Nell'arco Dei 15 minuti Però Per due giudici Su tre Questo non è stato Il verdetto Diciamo Non è stata sicuramente La chiave di lettura Che hanno dato Del complesso Di questo incontro E comunque Diciamo Nel complesso Sia Brown Che Kamaka terzo Si sono ben distinti E sono usciti Rafforzate Per lo meno Per la performance Che hanno offerto Da questo incontro Meno degne di nota Le vittorie Di Andreas Mika Illidis Contro Kibi Boulard Prima vittoria Di un greco Nella storia Della UFC Questo è forse L'unico aspetto Curioso Di questo Matchup Per resta Abbastanza Dimenticabile Loma Loma Lobok Mi Vittoriosa Su Semiux Grazie Alle sue Abilità Nei cambi Di livello Per decisione Sempre per decisione Unanime Split decisione Invece tra Vittoriosa Per Luana Carolina Conto Poliana Votelio E Altro match Femminile Conclusosi Per squalifica È stato quello Tra Luana Pineiro E Randa Marcos Un upkick Illegale Anzi Un paio di upkick Illegali Sono costati cari Appunto Alla canadese Che è stata Squalificata Primo incontro Nella storia Della UFC Nel contesto Delle categorie Femminili A finire Appunto Per questa Modalità Un finale Particualmente Anche qui Particualmente Contestato Perché qualcuno Accusato Insomma Tra Fanna I detti lavori E lo stesso Paul Federer In sedi di commento Pineiro Di avere un po' Accentuato Di aver un po' Tirato fuori Delle doti attoriali Per accentuare Le conseguenze Di questi upkick E ottenere Una vittoria Di straforo Per squalifica Insomma Una valutazione Che chiaramente Trova un po' Il tempo che trova Perché è difficile Valutare Con occhi esterni Se effettivamente Pineiro Fosse del tutto Fuori gioco O se avesse un po' Effettivamente Accentuato La gravità Dei calci Irregolari Ricevuti Da Randa Marcos Però fatto sta Che comunque A meno di cambiamenti Di risultato Da parte di Commissione Atletiche Che appaiono Comunque Abbastanza improbabili Comunque L'esito finale È stata Quella Della vittoria Per squalifica Per la Brasiliana Passando brevemente A presentare I prossimi eventi Di questo weekend Da parte Di UFC E da parte Anche di Bellator UFC Torna nuovamente In azione Questo sabato Sempre Dalla UFC Apex Purtroppo privata Sicuramente Un main event Che poteva essere Molto molto interessante E che in realtà Risulta Rinviato Per un infortunio Di TJD La show Che avrebbe dovuto Affrontare Corey Sandegen Se ne parlerà Molto probabilmente Tra un mese All'incirca O almeno Questa è la Prospettiva Di questo Matchup Doveva esserci In azione Anche lo sconto Tra veterani Tra Donald Serroni E Diego Sanchez Ma una vicenda Particolarmente Burascosa Che ha riguardato Sanchez E il suo Affabulatore Perché coach Sarebbe Fersintroppo Definirlo Joshua Fabia Ha portato Alla cancellazione Di questo match E all'uscita Stessa Di Diego Sanchez Una vicenda Che magari Potremmo commentare In una prossima Diretta Di Twitch Donald Serroni Ha ottenuto Come sostituto Un match Sicuramente Più interessante E competitivo Contro Alex Morono E come Benevent Della serata Non ancora Del tutto Ufficiale Ma diciamo A 90% Confermato E' stato posto Il match Tra a flyweight Femminile Tra Michelle Watterson E Marilyn Radori Di Riguez Match Che si inserisce In una card Che nel suo Complesso Tra gli incontri Effettivamente Confermati Presenta Il matchup Tra due Welterweight Alla ricerca Di riscatto In Neil Magni E Geoff Neil Match A heavyweight Tra Marcos De Lima E Maurice Green Light heavyweight In azione Molto molto Interessante Il matchup Tra Carlos Diego Ferreira E Gregor Gillepsi Così come Intrigante La sfida Femminile A strawweight Tra Amanda Ribas E Angela Hill Tra Prediminari A heavyweight Si affrontano Ben Rofwell E Philip Lins Middleweight Phil Ose Conto Kyle Da Ucaus Giovanni Anche qui Un po' Come quella Di questo Sabato Scorso Se Le giuste Finalizzazioni Tutto sommato Non è neanche Questa pessima card No infatti No 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 È una card Decente Godibile Main event A parte Che secondo me È proprio di Non è un match Da main event Ecco Non perché Si voglia dare O si voglia dire Qualcosa contro La quota rosa Anzi assolutamente La vetrina È sempre Ambita Però secondo me Proprio in termini Di qualità La Watterson È stata più volte In main event Però Mi sembra Abbastanza inconsistente Rodriguez Non è Una sfidante Diciamo Nemmeno vicino Alle zone Titolate Quindi Non capisco La scelta Di questo match Secondo me Neil Magni Contro Geoff Neil Che è ancora Più indietro Nella gestione Della card Sarebbe stato Un main event Secondo me Meritocraticamente Più invitante Però Va bene Ci sta anche così Anche perché Questo appunto Che ho appena nominato È il match Che probabilmente Mi interessa di più E anche quello Fra Diego Ferreira E Gregor Gillespi Si presenta come È un match Super super Godibile Guarda Addirittura Amanda Ribas Contro Angela Hill Mi sembra più interessante Del main event Poi Sarà anche Una questione Di gusto personale Sì Non sei l'unico Che ha espresso Un po' di Dubbi Insomma Sul peso Effettivo Di questo Main event Probabilmente Ha inciso Il fatto che Michelle Watterson Sia rappresentata Dalla agenzia Insomma Endeavor Che faccia riferimento Appunto Alla controllante Della UFC Quindi C'è anche questo aspetto Comunque È una fighter Che è molto Marketable Per utilizzare Un termine Che viene utilizzato All'altra parte Dell'oceano Insomma Chiaramente Con potenziali Marketing È notevole Poi In effetti Dico In effetti Dico Le fighter Coinvolte Nel main event Hanno vinto Tutte e due Contro le fighter Coinvolte Nel match Precedente Quindi In termini Di ranking Fra virgolette Non ci si può Nemmeno lamentare Forse devo dire È una questione Più personale Ecco Anche perché La Rodriguez Al di La recente Sconfitta Con la Esparza Può anche meritare Uno spot Per Lo stile Più che altro Di combattimento Ecco La determinazione Stessa cosa Watterson Che alla fine È una fighter Che anche se Non vince Magari poi I match Che contano Quelli che dovrebbero Portarla Nel contesto titolato Perché anche lei Ha perso con Esparza Ha perso con Johanna Però combatte sempre Dando assolutamente tutto E cerca di arrivare Sempre ai punti Nelle ultime Poi ci riesce pure Quindi Va bene così Ecco diciamo Forse sono troppo duro Sì E chiaramente Più che altro La prospettiva Di essere passati Da San Diego In 8D Lascio a questo match Come un event Esatto Strida un po' È inevitabile Che sia Quello lo aspettavo Tantissimo È un match Iper appetibile Sì 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 Ma speriamo appunto Che non ci possano essere Altri imprevisti In azione In azione Il giorno prima Venerdì Per aver fallito Anche Patrick Gojito Perez Uno dei fighter Comane Non conosco Non conosco Non conosco sinceramente L'avversario di Anthony Rumble Ma non vedo l'ora Di vederlo in azione Per capire A che punto è appunto Rumble Con il proprio rientro Adesso è un fighter Che comunque Ha anche 37 anni E deve stare bene Fisicamente Immagino Per dare il meglio Di sé Patrick Ifreire contro Peter Quelli È un altro Matchup interessante Venom Page Desta sempre Interesse Secondo me È come al solito Con avversari Comunque Limitati Ecco se vogliamo Diciamo così Anche se Vanta comunque Tre vittorie consecutive Derek Anderson E poi Larkin Contro Carvaglio Sì in termini Di stile In termini Stilistici È probabilmente Il match Più interessante Che c'è in card Fra i prelims Quindi Non capisco poi La scelta Perché comunque Larkin Anche se non combatte Da un pezzo Cavalca Una striscia Di quattro vittorie consecutive Carvaglio È stato addirittura Campione di categoria Quindi Voglio dire Due sconfitte consecutive Non possono relegarlo Ai prelims Secondo me Ecco Sì Può esserci Sono esserci Ragioni Di spazi televisivi Che probabilmente Sono piuttosto Sì di marketing Sicuramente Tenendo conto Anche su un canale Un po' particolare Come Showtime No ma magari Proprio anche per vendere I prelims Sì anche per aggiungere Un po' di peso Ai prelims Tra l'altro È sempre un po' Un terno all'otto Riuscire a capire Quanto effettivamente Sarà visibile Di legale In maniera legale In Italia Degli eventi bellator Perché a volte Si vedono solo i prelims Visto che non hanno Di distribuzioni A volte si vedono Sui prelims A volte non si vede nulla E quindi Effettivamente Per certi aspetti Se si dovessero vedere Solo i prelims Carvaglio contro l'Arch Potrebbe essere Il match Il nostro medevento Per certi aspetti Prendomeno In termini di visione legale E andremo a commentare Insomma Quanto riusciremo A vedere degli eventi UFC e Bellator La prossima puntata Oltre a presentare Chiaramente Possiamo a card Numerata all'orizzonte UFC 262 Però possiamo fermarci Qui con questo episodio Non prima di ricordare In settimana Ancora Andiamo a stabilire Se nella regolare finestra Del giovedì sera Tardo pomeriggio La classica Diretta Twitch Probabilmente Con un ospita sorpresa Anche qui Insomma Dobbiamo un attimo Vedere Ma vi terremo aggiornati Appuntamento Il venerdì sera Con la room Di Clubhouse In modo per rimanere Per l'appunto Aggiornati Con quanto facciamo E seguire i nostri Contatti sui social Pagina Facebook Profili Instagram E Twitter E il gruppo Telegram Linkato nel noto Dell'episodio E ora possiamo passare Ai saluti Da questa parte del microfono Vi saluto a Stefano Ciao a tutti E da questa parte Giovanni Ciao ragazzi E al prossimo episodio Con M.A. Talks Podcast